La parata, appunto, la mano è stata messa, cioè è cambiata un po' la traiettoria, perché la palla ormai, questo pallone si è calciato bene, si muove più volte dalla partenza quando arriva e quindi la mano devi cambiarla, quindi l'ho presa col palmo pieno e niente, è tornata indietro precisa. E invece, vabbè, sì, penso che stiamo facendo meglio, appunto, dal punto di vista difensivo, ma è cambiato, penso, tutto l'atteggiamento della squadra. Stiamo facendo meglio, anche i risultati stanno bene o male arrivando in queste ultime tre partite, però dobbiamo continuare a crescere, perché all'inizio abbiamo perso parecchi punti, dobbiamo colmare quel gap che abbiamo lasciato all'inizio. Non lo so, penso che col Sant'Arcangelo siamo andati in crescendo, anche perché la partita era 0-0, loro non hanno creato molto, alla fine abbiamo tentato di vincere questa partita, abbiamo sempre tentato di vincere, però siamo andati in vantaggio il primo tempo e dopo abbiamo cercato di gestire all'inizio del secondo tempo e poi dopo loro sono stati gli ultimi 20 minuti, abbiamo dovuto soffrire un po', però comunque ci siamo difesi abbastanza bene. Penso che tutte le partite siano difficili in questo giro, tutte le squadre sono forti e il Padova è una delle primissime squadre di questo campionato. Penso che comunque noi dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo continuare questo periodo di crescita e sfruttare al massimo questo momento e continuare a portare a casa punti, cercando possibilmente di portarne a casa 3.